Hello children, how are you? It's Mrs. Belling. Allora, lavoriamo con belly fish adesso, il pesce pancione, belly fish. Dunque, qual era l'errore? Abbiamo messo una B di belly, pancia, al posto della J di jelly, gelatina, ed è nato il pesce pancione. Le sue parole, his fumble words are fish, belly, and jelly. Pesce, pancia e gelatina. Divertitevi, vai!